Si producono vetture che restano nel parcheggio della fabbrica perché non si vendono e così l'annuncio del lingotto non è stata una sorpresa. A farne le spese è lo stabilimento di Pomigliano d'Arco in casa Fiat, 10 giorni di chiusura dal 20 al 31 agosto e cassa integrazione per 2150 lavoratori. Mentre a Cassino, altro polo industriale in difficoltà, si sciopera perché gli operai temono il ridimensionamento se non addirittura l'accorpamento con la fabbrica campana tradotto. Le assunzioni previste da un accordo di due anni fa potrebbero saltare. Il messaggio di Sergio Marchionne è chiaro, inutile produrre vetture che nessuno compra e i dati presentati dal gruppo torinese evidenziano il calo in Europa che è del 6,3% mentre in Italia nel primo semestre di quest'anno è del 19,7% dati comparabili alle vendite di 30 anni fa. La crisi del comparto però non è solo in casa nostra. A soffrire è anche il mercato continentale. Pagano i paesi nel mirino della speculazione finanziaria, Italia, Spagna e Grecia, ma anche la Francia dove il calo è del 14,4%, un record negativo senza precedenti a fronte dei mercati asiatici e americani.